Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi ricordiamo San Filippo Smaldone. Ascoltiamo. Filippo Smaldone nasce a Napoli il 27 luglio nell'anno dei famosi Moti di Napoli 1848. I tempi della sua adolescenza non erano tempi favorevoli per progettare il futuro, viste le crisi socio-politiche e religiose in corso, ma è proprio in questa fase che decide di legarsi alla Chiesa, perseguitata e osteggiata. Da studente di filosofia e teologia, ma anche dedito al servizio caritatevole, decide di donare le sue attenzioni a chi vedeva abbandonato ed emarginato, i sordi. Questa attività benefica gli fece trascurare gli studi, tanto da decidere di spostarsi da Napoli alla diocesi di Rossano Calabro, accolto per la sua immensa bontà dall'arcivescovo Monsignor Cilento. Questo trasferimento durò pochi anni. Fece ritorno a Napoli per proseguire gli studi ecclesiastici senza trascurare la sua assistenza ai sordi. Qualche anno dopo lo raggiunse Monsignor Cilento, che continuava a stimarlo per il suo animo buono e mite, ordinandolo sacerdote il 23 settembre del 1871. Divenuto presbitero, non abbandonò il suo essere catechista presso le cappelle serotine frequentate con profitto, né rinunciò ad essere collaboratore zelante in varie parrocchie. Inoltre, la sua carità e la sua generosità si estesero in cliniche, ospedali e case private per la forte pestilenza che stava colpendo in quel periodo la città di Napoli. Anche lui ne fu colpito, ma dalla Madonna di Pompei fu guarito. Dopo questi fatti, pensò di partire in missione all'estero, forse per dare più concretezza al suo sacerdozio, ma il suo confessore, che lo conosceva bene sin dall'infanzia, gli ricordò che la sua missione era a Napoli, tra i sordomuti. Fu per questo che una volta rientrato, decise, insieme ad altri sacerdoti e laici, di costituire una congregazione di preti salesiani, che però non prese il volo. Col passare del tempo, era il 1885, l'idea Filippo la trasferì a Lecce e, insieme a Don Lorenzo Apicella, riuscì ad aprire un istituto per sordi, guidato da suore. Fu così che nacque la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, benedetta dai Vescovi di Lecce. Da allora, la congregazione si espanse per il crescente numero di assistiti. Il sacerdote Smaldone ospitò anche ragazze orfanelle, abbandonate, cieche, senza trascurare la gioventù bisognosa in genere, con l'apertura di numerose scuole materne, laboratori femminili, pensioni per studentesse estese fino a Roma. Nonostante le avversità da parte dell'amministrazione comunale di Lecce, nei confronti dell'operato della Chiesa, Filippo Smaldone, la sua opera e la sua congregazione riuscirono a superare ogni ostacolo, confermando il disegno di Dio, il quale purifica con la sofferenza i suoi figli migliori e le opere nate nel suo nome. Per circa 40 anni Don Filippo Smaldone riuscì ad essere sulla breccia, prodigandosi per la sua gioventù, per i suoi sordi e per la formazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, di cui fu direttore e formatore. Stimato confessore di sacerdoti e seminaristi, stimato direttore spirituale di diverse comunità religiose, fu inoltre fondatore della Lega Eucaristica dei Sacerdoti Adoratori e delle Dame Adoratrici, superiore della Congregazione dei Missionari di San Francesco di Sal per le missioni popolari. Fu decorato della croce Pro Ecclesia et Pontifice, annoverato tra i canonici della Cattedrale di Lecce, decorato da una commenda dalle autorità civili. Finì i suoi giorni a Lecce, sopportando fino all'ultimo con serenità diversi problemi di salute. Don Filippo muore il 4 giugno del 1923. Il 12 maggio del 1996 viene beatificato da Giovanni Paolo II e canonizzato da Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006, a Roma, in piazza San Pietro. Quella di San Filippo è una storia di apostolato che aveva una predilezione. Lui si rivolgeva soprattutto ed era proprio attratto e affascinato nell'incanalare l'amore di Dio che poteva veicolare ai non denti, ai sordi. È un ambito molto molto particolare con il quale non so se noi effettivamente abbiamo a che fare, però ricordiamoci proprio oggi che esistono persone che non possono utilizzare il loro udito. Piano piano con l'età l'udito si perde, quindi moltissime persone anche magari in questo momento hanno iniziato a capire che cosa significa avere un problema di udito e a che cosa effettivamente si rinuncia. A una voce calda che ti esprime l'amore, a una bella musica, a una bella canzone, ad un concerto, ad uno spettacolo teatrale. Questi nostri fratelli non udenti sono effettivamente esclusi da tanta bellezza alla quale noi partecipiamo in maniera gratuita, senza rendercene conto. Quindi questo ci deve far sentire innanzitutto responsabili di questo dono che noi abbiamo avuto e anche nei loro confronti deve motivarci e deve fare in modo che noi riusciamo a coinvolgerli sempre e sempre di più. Esiste una loro lingua, che è la lingua dei segni, che noi ignoriamo completamente. Ma quanto sarebbe utile, soprattutto per chi fa un lavoro nel settore pubblico, impararla, almeno nelle cose base, per farli sentire accolti. Io, per esempio, sono andato più volte a fare benedizioni delle case e sono entrato a volte in alcune case con dei sordomuti, tutta la famiglia, perché a volte questa condizione è anche ereditaria. E mi sono trovato un po' in difficoltà, perché avrei voluto poter comunicare loro in maniera più ampia, però è stato molto molto bello, perché vedevo che lo sguardo, anche il sorriso, acquisiva un significato molto molto più profondo, perché era l'unica maniera, un po', per comunicare. Allora preghiamo per questi nostri fratelli, affinché non si sentano mai esclusi da tutti noi, dalla società, per questa loro problematica, soprattutto per i bambini, per i più piccoli. E anche noi cerchiamo di essere sempre sempre più pronti a tendere una mano, in modo tale da non far pesare questa loro difficoltà. E ci affidiamo appunto a San Filippo e alla sua intercessione. San Filippo prega per noi.